Salve amici appassionati Football Manager, qui con voi come sempre c'è Michael 94, ovviamente Football Manager d'Italia Siamo qui di nuovo su Football Manager 2016 con il nostro mitico Wigan e oggi andremo a vedere le partite con Leeds, il Mildes Brown e il Brighton Sì, credo che andremo a vedere queste tre partite, anche se poi nello scorso alla fine ho cambiato in corsa Ma ripeto, perché ho una voglia matta di andare avanti a bomba Quindi sì, comunque credo che faremo queste tre partite giusto per finire poi novembre Quindi sì, faremo questo e andremo subito a vedere le partite con Leeds Già confermata la formazione con Ortolà, Martella, Stevens, Pierce, Varela, Bakayoko, Yus, Rossi, Rabioio Lo lascio un altro po' in panchina giusto per Graven, Politano e Davis Più che altro perché si è un po' lamentato ogni tanto per la forma fisica che è stanco eccetera A questo punto lo lascio un'altra partita giusto per in panca poi nelle prossime giocherà a bestia Niente, bene o male la squadra sta andando, sta girando, ha i suoi periodi un po' no Facciamo due pareggi e una vittoria, due pareggi e due vittorie, due pareggi e una vittoria Ma speriamo di non fare altri due pareggi E niente, daje Wigan, speriamo bene di battere il Leeds Dai raga, siamo nettamente i favoriti credo Con 1.67 però oramai lo ripeto fino alla nausea che non conta un cazzo Anche perché, porca miseria, Leeds ha ottimi giocatori come Lewis Cook Che è un grandissimo, a parte che è Lewis Cook Che l'abbiamo preso anche nel Frosinone ma poi comunque è un mostro Poi c'è anche Chris Wood che devo esservi sincero io lo seguo da almeno 2-3 football manager Perché ogni tanto lo davano in prestito, non mi pare che è stato sempre in Leeds Infatti lo seguo da un po' perché lo davano sempre in prestito Ed è un attaccante molto alto, forte fisicamente e che la piazza bene ovviamente di testa Per questo l'ho sempre seguito anche perché dandolo in prestito era tanta tanta roba Un attaccante del genere, pure Gaetano Berardi è un altro bel giocatore Però vabbè, ora non ci spulciamo tutti i giocatori del Leeds Dobbiamo vincere assolutamente ragazzi Non voglio più sti cazzo di pareggi Alla fine arriva una sconfitta Speriamo di no Anche se il Leeds è la gran squadra Ecco appunto Mowat, Antenucci, Yuz La spara di no intanto, scusate non ve la faccio vedere ma Antenucci, porca trota Mi sono portato sfiga da solo Dove imparare a starmi zitto Porca... Non voglio di parolacce Sono poi di testo sboccato Silvestri Il gatto Silvestri Dalei, dalei Dalei Cossa centro c'è il mitico Davis che non arriva Yuz Raga, porca trota Biram Biram non mi piace come iniziata Non mi piace Dallas Antenucci Wood 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 Fa cagate Kyuk No Ma che paura Pierce Dai ragazzi gestiamola Politano Pallone bellissimo per Davis Non sbagliare ti prego C'è Dalei Dalei ripassare al centro Non tirare Politano Mamma mia che duo di ali Politano e Dalei Secondo col stagionale di Marco Che questa volta non sbaglia Porca miseria Che nel video scorso ha sbagliato l'insbagliabile Dai Dai Bravi così Però raga non deconcentriamoci Ragazzi non deconcentriamoci assolutamente Ripeto So che le partite dureranno un po' di più Visto che ho diminuito la velocità Dalle durazioni importanti Però Come potete ben vedere Serve Visto che Fiammo Tutte le partite viste Sono andate relativamente bene Soprattutto parlando a bomba Con la squadra Ripeto Devo dire la verità Sembra che serve Poi boh Sarà pure una coincidenza Ma anche con le altre carriere Mi ci sto trovando B-Ram Se mai Se andrò avanti Con la carriera offscreen Qualcosa ve la farò vedere Anche con Tipo nella serie Mostriamo le nostre carriere Però sto ancora Solo al secondo anno E per il momento Ho solo salvato Una squadra Da una certa Una veramente certa Retrocessione Ed è stato veramente un miracolo Raga Davis Polità Che cazzo fai Politano Polità E mi daludi così 1-1 con l'itz Intanto qua Arriva un vento Della madonna Qua A casa Non nel gioco Cook Dallas 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 Fermiamolo Cross dal centro C'è il mitico Wood Mamma mia Ortola Ma chi è? Chi è? Un mostro No Porca trota È la parola del giorno Porca trota Però porca miseria Raga Mi state diludendo Berardi La passa a Faustino Faustino Persi in grave Ripassa al centro No Segna Ottimo raga Dai e dale Però Ma non facciamo più minchiate Vinciamola Stavartita Ok dai Lizza è un'ottima squadra Però Bravissimo dale Non era affatto facile Inzaccarla qui Soprattutto poi in corsa Il portiere Sinceramente Poteva fare Nettamente meglio Però sti cazzi Meglio così Io Non sono felice Della prestazione Assolutamente L'hai fatto schifo Dai Stiamo in casa Tutti i tifosi Che vi Osannano Ortola Un gran portiere Sono due video Che lo dico Davis Yuse Un altro bel No Bakayoko Bravissimo Perché Sti cazzo Di impalli Cook Ancora La passa a Dallas Dallas Marchiamolo Ma è mai possibile Vincono tutti i rimpalli Mowat Eh vabbè Qua è culo Però raga Qua è culo Ortola Non c'ha Chris Wood No ragazzi Che cazzo Stiamo facendo Che schifo Che schifo Ma si può Perde così Che porca Misera Hanno vinto Tutti i rimpalli Tutti Ecco Andiamo avanti Pure non facciamo Un cazzo Abbiamo In campo Scusate Meraga Ma Sti cazzo Di partite Mi danno Nervoso Quando Va tutto A sfavore Poi Sti minchioni Stanno facendo Cagare In difesa Bravo Bakayoko Dai Bakayoko Rossi Rabiu Jakobs Jakobs Dai Jakobs Seppure lamentato Che non giocava Ma vaffanculo Davis Ti odio Jakobs Cross al centro C'è Stevens Non ci arriva Ancora calcio D'angolo Ma tanto Non credo Che sia Un'azione importante Non lo so Rossi Rossi Cross al centro Bello Pallone Non ci arriva Un cavolo Di nessuno Davis Ancora Faustino C'è Martella Che sbaglia tutto Brancora Bakayoko Veramente prende un pallone Ma porca Miseria Tanto qua fuori C'è di tutto Vento Aerei E cani Meno male Non si è messo Pure il mio Ad abbagliare Che sennò Veniva una cacciara Sto video No raga Porca miseria Settantaseiesimo Settantese Dai Jacobs Cosa c'entro Pierce Perché Davis Ancora lui Davis Mamma mia Ne sbagli una C'è ne fai una E ne sbagli cento Ma che culo Silvestri Non so come para Jacobs Jacobs però Porca miseria Rossi Grossa al centro Tanto è finita l'azione McCann Arriva a San Rossi E appunto Oramai Si conosce a memoria Tanto Liz che attacca Scusate Volevo parlare con la squadra Mamma mia Ortolà Che cazzo di portiere Momenti di silenzio E di rabbia Estrema Perché Abbiamo sprecato Ottantamila Occasioni E qua Finisce qui la partita Mi sono portato Sfigata solo Arriva la prima sconfitta Con Liz Ma raga Ma vaffanculo Cioè Per carità Rispetto per il Liz Però Ragazzi Fate cagare Ci sia da lezione Assolutamente Cioè Abbiamo pure dominato Vabbè Effettivamente hanno fatto Più loro di rimporta Il Brighton ci riprende Ovviamente È un campionato Molto combattuto Arriva purtroppo La prima sconfitta Vaffanculo Oggi sono abbastanza Sboccato Rossi Rossi Annaggia a voi Mannaggia Vabbè ragazzi Ci vediamo Fra pochissimo Fatta la formazione Fatta anche la partita Col Southend Vinta veramente Molto a culo 1-0 E diciamo Che è un periodo Un po' così e cosà Mi sono portato Tanto sfiga Solo con Liz Però vabbè Non fa nulla Bene o male Abbiamo due partite Normali Non voglio dire niente Perché sennò Poi sarà un altro casino Vi faccio vedere Un po' la formazione E Rabiù è stanchissimo Un'altra volta Quindi non lo porto Manco in panca Giocheremo con Ortola Martella Rose Pierce Varela Bakayoko Yuz Vesino Dale Politano Longo Diciamo che i tersini Non li sto cambiando mai Ma mi piacciono Parecchio Speriamo in Longo Che si è da poco Ripreso dall'infortunio Siamo leggermente favoriti Però Boh Mai dire mai raga È un periodo un po' cosà Stiamo a due punti Da Liz Che a quanto pare Sta recuperando terreno E Dobbiamo starci attenti Il Midas Brawl Intanto Schiera in campo Una squadra Mi sembra abbastanza stank Invece Per fortuna Noi siamo Abbastanza freschi Avendo comunque Parecchi cambi Anche se Molti non li ho ancora mai usati Però vabbè Sti cazzi Se squadra che vince Non cambia Anche se Nell'ultima Ha fatto un po' cagher Stiamo al trentesimo E ancora nulla Ma con mezza azione carina Non commento più Clayton Ortolà Ortolà Mischione Ortolà la para Meno male Però raga Porca miseria Perché mi fate questo 0-0 Col Midas Brawl Chiarietà Non è che Sono scarsi Però Assolutamente Non sono felice Della prestazione Longo Besino Bakayoko Yuse Yuse Bello il pallone Per Dalei Dalei Shot Lo ferma Ragazzi Non mi sta piacendo Non mi sta piacendo per niente questo Wigan Molto più Medias Brawl Quando gioca male il Wigan Si sente anche dalla telecronaca Molto spenta Mi sento un po' Telecronista di Sky Che Quando Quelli là di parte Ovviamente Che quando la propria squadra perde Porca miseria Sembra che gli sia morto Qualcuno Ma è giusto Giusto così Ovviamente Entra Mekan e Rossi Fisico E creatività Vare là Vare là Sbaglia Ma vare là Ma sbagli sempre Sta rimessa con le mani Ma che cazzo Vare là Politano La passa Bakayoko Bakayoko per Mekan Mekan per Singraven Politano Mamma mia Finalmente Dagli raga Però mo Stiamoci attenti Che sto Mildesbrout È infame Bello il gol di Politano Bravo La temevo Sicuro una parata del portiere 100-100 Invece è stato molto bravo A girarla Poi al volo Cioè Porca miseria Ha fatto un signor gol Politano Però mo Stiamoci attenti Uno Parliamo con la squadra Domanda di più Assolutamente Due Facciamo un ultimo Eh no Sbagliato Facciamo l'ultimo Cambio Proprio Dell'ultimo Io vorrei fare sordire Martella Ragazzi Ho questo Tarlo fisso Che lo so che Darla sta messo peggio Infatti facciamo così Guardate Buttiamo una mischia Mattiello Anche se Mi pare che poteva giocare Come alla sinistra Sti cazzi Comunque io voglio fare sordire Mi fa piacere Anche due minuti Mi farebbe piacere Vederlo Ortola Ortola Martella Rose Rose Tiene palla Ortola Ragazzi Non facciamo stronzate Ortola per Mattiello Mattiello Non ci arriva Ragazzi Stiamoci attenti Rose Rose Che cazzo fai Dieci secondi Politano Ragazzi calma Politano Politano Lungo Meccano Intanto qua fuori Sta arrivando Non so che cazzo Di aereo Ok Finita 1 a 0 Meno male Vabbè dai Ben fatto Mattiello manco senza voto Mi dispiace Però Volevo comunque farlo esordire Bella vittoria Stiamo a più 3 Dall'Ul City Il Litz perde Mi sa Si A 30 punti Stiamo a più 5 Dall'Litz Beh Comunque bene o male Un campionato parecchio Parecchio Combattuto Mi fa piacere Per il buon Mattiello Mi dispiaceva Non farlo proprio giocare Effettivamente Un campionato Combattutissimo Se vedete che Comunque Alla ventesimo posto C'è il Fulham Con 20 punti Noi ne abbiamo 35 Solo 15 in più Quindi Non c'è nemmeno Tutto questo distacco Quello che stupisce È il Sunderland Addirittura con solo 13 punti Mi sembra veramente Assurdo Che una squadra come quella Possa far così Schifo Detto questo Ci saltiamo la partita Con Shelfield E poi ci vediamo Direttamente Col Brighton A fra poco Formazione fatta Partita vinta E devo dire la verità Anche con un po' Di fortuna Vincendo 2 a 1 Con lo Sheffield Cioè acchiappano subito Con un gol di Forestieri Poi per fortuna Due gol di Pierce E lungo Pierce che purtroppo Comunque È ricercato dal Norwich È un casino Insomma Per 5 milioni Io lo venderei anche Anche se non mi ricordo Quanto ha Ok non ha nessuna clausola Cioè diciamo Per una cifra importante Io Lo cederei anche Ma per soli 2 milioni Un po' Mi spiacerebbe Essendo comunque Il capitano Ed essendo comunque Un difensore Che a me È sempre tanto Tanto piaciuto Con questa vittoria Comunque Arriviamo a 38 punti A più 5 Dall'Ul City Però raga È un campionato Veramente Tanto Tanto combattuto Quindi Ci mancano Veramente ancora Un casino di partita Abbiamo la media Di 2 punti Al partita E male Non è Comunque Vedremo quest'ultima partita Con questa formazione Ortolà Martella Rose Pierce Varela Bakayoko Yuse Rabiot Dale Epolitano E lungo Fino all'ultimo E' deciso Se mettere Rabiot O Vesino Questo per farvi capire Quanto Vesino Mi stia Piacendo Anche se ovviamente Rabiot È di tutta altra categoria Quello che mi spaventa Di Rabiot Ovviamente È la clausola Diciamo Per acquistarlo Di 21 milioni Che è veramente Una cifra Pazzesca Se mai riusciremo Ad arrivarci Ovviamente Sarò felice Di prenderlo Però Mettete sempre caso Ragazzi La possibilità Che se avremo Solo Che ne so 21 milioni Non so Se poi Ci convenga Andarli a Spendere tutti Su di lui Perché Dovete sempre Considerare Che c'è anche Bakayoko Che vorrei Riscattare Quindi Non lo so Non lo so Poi vabbè Varela Costa 500 mila euro Rose Un milione Ma sicuramente Si troverà anche Di meglio L'anno prossimo Quindi Io Metto A ogni prestito Il diritto Di riscatto Perché se quel giocatore Ci stupisce Fino alla follia È sempre un bene Poter mettere La possibilità Di acquistarlo Ma Non è che per forza Si devono comprare Ma questo è ovvio Ovviamente Varela Non mi sta Dispiacendo E per la premier Secondo me Potrebbe essere Anche un ottimo Panchinaro Oddio Che sto felice Da questa prestazione Sta facendo cagare Abbiamo vincito Assolutamente Stavo nettamente Sbagliando Tanto Rabbiosi È ancora Ancora Ferito Diciamo Ancora fatto male Quindi mi sa Che è l'ora Di Mister Vesino Tanto attacca Al Brighton Con il Marte Ma che cazzo fai Ortolà Fai il miracolo Emed contro Ortolà Emed contro Ortolà Ti prego Ortolà Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Per quanto Per quanto Mamma mia Che cazzo Martella Martella Use Use per Mattias 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 Matti No Sembrava goal Sembrava goal Ragazzi Giuro Già stavo No Martella Che minchia Fai Oggi Mannaggia A te Martella Prima il rigore Poi fai sto salto Ma che sei un canguro Ma ti sto odiando Emed In su In su In su In su Politano Longo Dagli Longo Lungo No Porca miseria Ragazzi Whittaker Whittaker Ancora lui Bruttissimo Sto cazzo Di pallone Raga Quanto Io odio Martella Dalei Vesino Bakayoko Use Use ma che minchia fai oggi Madonna santa Oh Mi sto incazzando Veramente Lungo Use Non sbagliare sto pallone Ti sparo Dalei Crossala bene Dalei 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 C'è Politano Ma è un mostro È un mostro sto Politano Stiamoci attenti È un mostro Ma che minchia di gol fa Questo è il secondo gol che fa al volo Porca miseria che mostro Dalei Assistman Ma guardate qua Politano è ingirata Ma che minchia fa Fenomeno Un fenomeno Ottimo Ottimo Però Facciamo qualche Qualche change Use pure stanco Diamo un po' di Muscoli A centro campo Pierce Noto che Molto spesso La difesa Non riesce a reggere I 90 minuti 86esimo Bakayoko Besino 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 Bello il pallone per Politano Dai Politano Jacobs Ma ti odio Ti odio Jacobs Mi hai pure chiesto di giocare titolare Ma tu non lo vedrai più il campo Mannaggia a te Intanto quando Bakayoko Mi confondo sempre Sto sempre quasi per dire Bakayoko Un casino Casino Jacobs Jacobs McCann Eh vabbò Qua ce li stanno Asfaltando tutti Porca miseria Raga Abbiamo giocato nettamente meglio 6 tiri in porta Però vabbò Più 6 da Lull City Che però deve ancora giocare Che palle Bene o male che comunque Abbiamo Maronna Ragazzi vi giuro Avevo letto Rabbio 7 mesi Ho detto Porca miseria Poi invece Ho letto Il presto di Rabbio Fini fra 7 mesi Resterà fuori 3 settimane Mi sta venendo un infarto Raga Rabbio Porca miseria 7 mesi L'avrei mandato indietro Cioè Vabbè no Non lo paghiamo Quindi sti cazzi Però mi è venuto un colpo Mamma mia Vabbè Detto questo Mi sa che nella prossima partita Finiremo Anche dicembre Vedremo credo McDon's Norwich E il Bramford Credo proprio di si Poi Abbomba sul mercato Vi salto il Bristol E l'Holdham Insomma Ah no In teoria il Bristol Stanno facendo bene Quindi se mai vi facciate Bristol Norwich E Bramford Non lo so Ma vediamo un po' Comunque anche qui Vorrei finirlo Dicembre Giusto per andare Avanti Detto questo Raga Io spero che come sempre Il video vi sia piaciuto Lo so che In questo video Sono stato un po' più Incazzoso Del solito Ma Ovviamente non mi piace perdere Ma credo che Credo che Diciamo I fan Sfegatati Di questo gioco Quando perdono Perdono Fanno anche peggio Dimmi Io ovviamente Mi devo contenere Perché sto registrando Ma Alcune volte Faccio veramente Di peggio E niente ragazzi Detto questo Io spero che il video Vi sia piaciuto Come sempre Mettete mi piace Condividete Commentate Oggi non ve l'ho detto Ma Vi ricordo di mettere Mi piace Sulla pagina Facebook E di mandarmi Le foto Delle vostre carriere Per mostrami Per mostriamo La vostra carriera Detto questo Come sempre Un saluto a Mac94 Ovviamente Football Manager Italia Ciao ragazzi